perché fa due tre mangiate Giovanni ma quanto è Paolo secondo te è una cernia sicuro spero guarda che incapace che dà vai Paolo vai qui vedo il sorriso c'è il baffo ti crema la gamba appoggiacelo un po' dai Giovanni lo devi mantenere non ce la fai non è quella grande secondo me hanno fatto i figli eh beh due figliolette 거 ti sembro meglio guarda 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 la forma la ce la fai si? guarda 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 ha dicendo porco picco 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 ho gira ti gira quanto sei brutto picco è un minuto e 27 un minuto e 28 quanti metri Paolo quanti metri 60 metri ancora non mollare tieni duro Giovanni il raffiatore è pronto per incazzare il pesce è un grongo mi incazza non ho mai preso un grongo qua sopra mai preso un grongo in tanti anni se sei un grongo mi butta a mare lo ha detto eh lo ha detto di raffiare il costumo no ma anche nudo non ci vede nessuno Paolo ti sei messo in posizione è strano che dà questi colpi ancora qua sopra segna 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 eccola lì segna canina cazzo le canzini cazzo segna canina segna canina me la raffi come goto me la raffi come goto me la raffi ma ma c'è un buco qua l'hanno sparata in bocchi in bocchi in bocchi no ma l'hanno sparata in bocchi in bocchi in bocchi è il mio ammo di prima e dai eèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèeièèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè e questa è quella piccola vuoi che la mamma ieri ha detto così io prendo il porco e me ne va tu domani mi devi portare a prendere il forco non hai capito io ho detto andiamo a Totani no tu non hai capito tu domani mi devi portare a prendere il forco e me ne va devi fare una foto la devi mandare a Carlo